La Polizia di Stato di Caltanissetta continua a mantenere costante e a monitorare il controllo del territorio. Nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia nissena, la Polizia ha denunciato all'autorità giudiziaria 16 persone, eseguito 22 perquisizioni e sequestrato Ashish. Sono 16 le persone denunciate all'autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia nel corso dei servizi di controllo del territorio. Una per il reato di rapina, una per truffa, quattro per minacce e lesioni personali, due per maltrattamenti in famiglia, una straniere irregolare per inottemperanza all'ordine dell'acquestore di lasciare il territorio nazionale, una per esistenza pubblico ufficiale e sei per altri reati. Due giovani inoltre sono stati segnalati alla locale prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Sono invece 22 le perquisizioni eseguite dagli equipaggi in servizio di controllo del territorio.